È ancora presto per dare un giudizio sullo strumento, nel senso che siamo in itinere e siamo alle prime fasi di coinvolgimento di una proposta che ha una dotazione finanziaria cospicua di 80 milioni di euro e che potrebbe essere uno degli aiuti possibili per incrementare l'occupazione giovanile. Questa almeno era la finalità. La preoccupazione che è emersa nel corso della discussione è circa l'efficacia di questo strumento che per ora appare problematica, cioè se non c'è lavoro le aziende non assumono e non bastano gli incentivi che sono stati destinati perché questa tendenza si capovolga. Tuttavia l'elemento formativo che è presente e a cui si sta abbeverando un numero discreto di giovani, cioè 1.500, è un elemento che va considerato positivo. Tra sei mesi e un anno probabilmente potremmo avere circa la collocazione in posti di lavoro veri, delle risposte più attendibili di quelle che abbiamo avuto oggi. Abbiamo chiesto e ottenuto di avere una prima verifica del progetto della garanzia giovane e come pensavo, non avevo dubbi, il Veneto si è attivato ma i dati nazionali sono estremamente preoccupanti e anche qualche dato Veneto ci dice che l'attivazione del privato sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista dei posti di lavoro è ancora molto molto piccola. aspetteremo ancora qualche mese ma è giusto lanciare un allarme perché se noi spendiamo 83 milioni di euro e non riusciamo a trovare posti di lavoro facciamo una cosa buona per la formazione ma assai poco buona per l'occupazione dei nostri giovani. Un punto positivo è che si è mosso bene il sistema pubblico tanto vituperato dai servizi per l'impiego che ha fatto la quasi totalità degli incontri con i ragazzi. Il sistema privato ha fatto un sacco di punti di informazione ma che hanno fatto pochissimo e poi il numero di rilevazione dei posti di lavoro diciamo in qualche modo assicurati che sono ancora molto esigui. È chiaro che oggi è difficile con questa situazione economica assicurare l'assunzione però noi ci aspettiamo che uno sforzo così ingente in termini di risorse e di impegno corrisponda poi sul serio la possibilità per i nostri ragazzi di avere delle occasioni di lavoro. Grazie.